Pipino Il Breve inaugura la 35esima stagione della Brigata d'Arte Sicilia Teatro di Belpasso. L'inossidabile Tuccio Musumeci, tra i più grandi capocomici del teatro italiano, torna a interpretare il personaggio del re di Francia Pipino, nella storica e divertente commedia musicale che da oltre 40 anni è ritenuta un vero e proprio simbolo del teatro siciliano nel mondo. Dopo il successo al teatro Brancati di Catania, Tuccio Musumeci, sabato 10 e domenica 11 dicembre, è pronto a far divertire anche il pubblico di Belpasso. Pipino Il Breve è un successo intramontabile perché l'inossidabile Tuccio Musumeci, ancora avremo il piacere di vederlo sul palcoscenico dopo quasi 40 anni, anzi 47 anni dal debutto di questo spettacolo bellissimo, con le musiche bellissime di Toni Cucchiara, rivedremo Tuccio Musumeci e proprio la Brigata d'Arte con Il Pipino Il Breve inaugura questa nuova stagione 2022-2023 qui al Martoglio di Belpasso ed è la 35esima stagione teatrale. Quindi 35 anni che lavoriamo qui, che operiamo qui al teatro comunale Nino Martoglio di Belpasso e devo dire con mia grande sorpresa che nonostante il Covid, nonostante le difficoltà enormi sia logistiche che organizzative, il pubblico ha ancora voglia di teatro, di tornare a teatro. La stagione della Brigata d'Arte continua poi con altri sei appuntamenti, in programma non soltanto al teatro Nino Martoglio di Belpasso, ma anche al teatro Massimo Bellini di Catania. La stagione proseguirà, quindi inauguriamo con Tuccio Musumeci, proseguirà con un'operazione di almeno un otto anni fa, la riprendiamo, è il Caffè Shantan, una produzione della Brigata d'Arte. Proseguirà ancora poi in febbraio con un'operazione che vogliamo dedicare ai bambini, ai ragazzi. La Brigata d'Arte è attenta anche a quest'altro tipo di pubblico ed è giusto che i ragazzi vengono a teatro, abituarli a teatro. Proporremo in febbraio, sotto Carnevale, anzi durante le feste di Carnevale, un musical che è Aladdin con la compagnia nazionale del musical che ha fatto per la Brigata d'Arte già l'anno scorso, il musical My Far Lady. E quindi inviteremo tutti i figli degli abbonati, i ragazzi delle scuole, eccetera, a venire a teatro vestiti in maschera proprio per una grande festa in nome del teatro e in nome dello spettacolo che poi sarà fatto anche dai ragazzi stessi vestiti in maschera. Poi proseguiremo ancora in marzo. In marzo avremo una compagnia ospite che è la compagnia del figlio di Gilberto Idonia, Alessandro Idonia. Gilberto è stato con la Brigata d'Arte per tantissimi anni, insieme a Michalizia e tanti altri attori di Catania. Faremo questo spettacolo, quindi una produzione proprio della compagnia di Alessandro Idonia. Lo spettacolo è Caro papà, una commedia proprio di Gilberto Idonia, con Gina Astorina, Giovanna Criscuola, insomma i beni e beni del pubblico di Belpasso. Ancora un altro spettacolo, poi avremo in aprile, un'altra operazione della Brigata d'Arte con un beniamino del pubblico di Belpasso, che è Mico Magistro, un altro mosto saco del teatro siciliano. Per poi passare ancora a maggio, a maggio avremo due operazioni. Un'operazione con una piccola partecipazione di Tuccio Musumeci, ed è il Tartufo di Moliere per la produzione del teatro della città, e chiuderà, per quanto riguarda gli spettacoli a Belpasso, proprio così come apre la stagione Tuccio Musumeci, con uno spettacolo bellissimo, una novità in assoluto, perché è un lavoro di Andrea Camilleri, la pensione di Eva, quindi con protagonista Tuccio Musumeci, per la regia di Giuseppe Di Pasquale. Ma la stagione si concluderà in novembre del 2023 con il Gran Galà dell'Opera al Teatro Massimo Bellini di Catania. Si rinnova ancora, grazie al sovrintendente, il maestro Giovanni Cultrera, il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, si rinnova ancora questa convenzione, questa collaborazione, fra la Brigata d'Arte e il Teatro Massimo Bellini. Questa sarà l'operazione che chiuderà la stagione teatrale 2022 e 2023 e ci auguriamo, inaugurerà la nuova stagione 2023-2024.